E' una domanda difficile, nel senso che non ci sono i consumatori, c'è ogni singolo consumatore. E quindi io devo dire che nel tempo noi vediamo che la coscienza, la responsabilità sociale, ecologica dei consumatori sta crescendo e quindi abbiamo consumatori che si avvicinano al prodotto biologico, quindi al prodotto ecologico per un'esigenza personale, anche un po' egoistica diciamo, però sempre di più sta crescendo diciamo una coscienza generale, una conoscenza per il pianeta si potrebbe dire. Quindi questo è un percorso sicuramente inarrestabile, è un percorso in divenire. Almeno nei paesi occidentali dove effettivamente i problemi, c'è più capacità di spesa e anche i problemi ecologici sono più, come dire, più sentiti in qualche modo dalla persona.